Nella ventiduesima giornata di campionato di eccellenza, il girone B la battì Pagliese, impegnata al modestino De Cicco di Prato-la-Serra contro il Sant'Omaso, terza forza del girone, raccoglie la stessa sconfitta consecutiva. Gli Irpini infatti vincono 2-1 per i padroni di casa in rete carotenuto dopo 16 minuti del primo tempo su assist di Avallone e Damora al quindicesimo della ripresa su assist di carotenuto. Nel mezzo la bellissima rete di Munar con una conclusione di prima intenzione su cui nulla ha potuto il portiere di casa. La battipagliese tornerà in campo mercoledì contro il Valdiano all'ossadio Pastena per il recupero della seconda giornata di ritorno che non viene disputata per il maltempo.